Noi siamo Chopworks, siamo di Torino, ma non proprio, anzi siamo più della periferia di Torino. Quando sono partito con l'idea di Chopworks era ancora uno sbarbato, è sempre stato un po' un sogno nel cassetto che pian piano con molta dedizione, esperienza, studi, è riuscito a realizzarsi come sogni e diventare una professione appagante. e che continua a portarmi comunque avanti. La squadra di Chopworks è composta da, insomma, io come perno principale fondatore, Spidi, e soprattutto la mano indispensabile è quella di mio padre. Diciamo che lui è un po' il maestro che mi ha formato. Quando uno fa un lavoro che ci è fatto con le sue mani, è una soddisfazione per quello che ho ancora. Ho 76 anni e cerco di farcela ancora là. Cosa deve fare il padre? Starsene a casa? In pensione? Andare in giro per i mercati? Tanto vale che vieni qui e è quello che faccio. Le nostre motociclette arrivano dal nostro background, da quello che abbiamo vissuto, dalla nostra cultura motociclistica, dalla nostra cultura musicale, dalla nostra cultura underground. Uno spirito rock'n'roll, uno spirito legato alla strada e comunque motociclette alla portata di tutti. Le moto di Chopworks sono moto che si riconoscono. Prima di tutto devono piacere a me. A mio figlio è roba un po' pacchianata, tanta roba cromata, accessori, come dire, mettere i campanelli, non le piace. Stare su uno stile che di fantasia, modestamente, non le manca. Sono nuove visioni che riescono ad avvicinare vecchi e nuovi motociclisti, cercando in qualche modo di mantenere lo spirito e la tradizione delle moto della vecchia scuola. Noi siamo Chopworks. Chopper, spirito e tradizione.